Porto degli Olivi, 6 luglio, 11 candeline, dalle 21 e 30, è Studio 54 Live, sul palco, Emi Schilla. Biondo, siamo un roof garden, vedo tutta Roma, alle tre mani in campo. Lolo, Armando Quattrone, Ruli Rodriguez, una festa pazzesca con Studio 54 Network e tanti artisti. Dalle 19 vi aspettiamo con Valeria Marini per il taglio della maxi torta. Venerdì 6 luglio, centro commerciale Porto degli Olivi, è grande festa, è Studio 54 Live.